Musica Amici di Zian Traverse, in questo momento siamo nella casa di Santa Maria Goretti a Corinaldo e insieme a noi un Cicerone assolutamente d'eccezione, il signor Rinaldo, buongiorno Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di essere venuti qui, così possiamo vedere anche in televisione questo luogo meraviglioso Ecco, noi in questo momento ci troviamo nella cucina, dove qui abitavano fino a 7 persone Premetto che in questa casa non c'era nessun servizio, né acqua né luce né servizi igienici La casa, come potete osservare, è stata riconsolidata, però è lasciata nei minimi particolari perché non è solo luogo sacro, ma è un monumento storico Queste travi del cammino, che era l'unico servizio che aveva la famiglia, sono originalissime Il Fon Questi che hanno in più può vedere come usava, l'abbiamo rifatta perché certamente è una cosa molto singola Quando non c'era corrente elettrica, non c'era forno, non c'era nulla Questo serviva soprattutto per quando accendevano il fuoco, per fare un po' d'aria, per fare iniziare la fiamma E poi anche se c'era caldo, anche per fare un po' di ventolino Ecco, poi qui c'erano, allora all'epoca non è che si andava a comprare il sale fino o il sale grosso Era tutto grosso e questo era il famoso mortaio dove si pestava il sale Mentre c'è un altro attrezzo molto particolare che è questo Questo serviva per tostare l'orzo, l'orzo mondo Finito quando era pronto, che era a condizioni giuste Con questo qui veniva macinato per fare il caffè d'orzo Ecco, qui siamo nella sala perché quella famiglia Goretti era una famiglia di mezzadri E avevano poco bestiame perché avevano anche pochissimo terreno Appena tre ettari e mezzo di terreno che coltivavano a mezzadria Ma non è come oggi che chi lavora prendeva la paga Allora era il 60% circa che prendeva il proprietario Ecco, e anche per questo motivo la famiglia Goretti Quando erano arrivati 5 o 6 persone con il loro prodotto non potevano più sopravvivere E' per questo che sono immigrati prima a Pagliano e poi a Nettuno, anzi vicino a Nettuno a Ferriere di Funca Poi come potete vedere la casa è stata riconsolidata ma lasciate le vecchie travi per far vedere l'antichità Perché questo, secondo giustamente gli studiosi, l'hanno nominato non solo luogo sacro ma anche monumento storico Questa era la cantina, è stata fatta una chiesina Qui viene celebrata la Santa Messa tutti i 16 del mese perché lei è nata il 16 ottobre Questa foto è stata scattata il 1 agosto 2008 Questi sono 43 nipoti e proripoti di Maria Goretti ancora tutti esistenti Perché noi qui stiamo parlando di una cosa recente Maria Goretti lo scorso 16 ottobre ha compiuto 123 anni, una cosa recentissima E fra l'altro le dirò di più che io sono nel momento l'unico che ho conosciuto molto bene la mamma Perché sono nata lungo questa strada e quando è morta la mamma io avevo altri 13 anni Io sono del 41, la mamma è morta del 54 e 73 anni fa, o in questi giorni, la mamma di Maria Goretti stando in casa mi cullava E quando iniziavo a camminare mi portava per mano ma dopo viene il buono Perché quando ero grandino, birichino sicuramente, mi ha dato anche alle volte Più volte ma anche una volta sola Una madre severa Sì perché so se mi hanno detto la storia di Maria Goretti che la mamma era una bambina abbandonata Cioè è stata in convento per parecchi anni Poi si è sposata che aveva 19 anni E' stata a 16 anni col marito e ha messo al mondo 7 figli Il primo l'è morta a 9 mesi, dopo due anni gli hanno ucciso questa figlia Ed è l'unica mamma al mondo che ha assistito alla santificazione della figlia Perché Maria Goretti viene santificata il 24-2050 La mamma muore e l'ha dotto per il 54 Qua c'è un'altra cosa molto particolare Questa è la stanza dove è nata Però il letto matrimoniale, come raccontava Assunta, è andato distrutto Perché all'epoca era sopra delle tavolacce, come diceva lei, con il materasso di foglie di granoturco Allora dopo la sua vedovanza, che è rimasta a vedola, come diceva, 39 anni Ha acquistato questo letto, ha passato tutti i resti della sua vita su questo letto Ed è morta su questo letto, 8 ottobre 54 Accanto a lei c'è la figlia Ersilia, la penultima Ma quel signore, molto sintetico, come vogliamo dire, molto rigido È Alessandro Serenelli In poche parole, quel signore lì, 52 anni prima, ha ucciso la figlia E' il primo a correre da macerata a pregare sul corpo della mamma Quest'immagine qua, siccome Maria Goretti non aveva nessuna foto Grazie alla mamma, con delle testimonianze di notti pittori, sono venuti fuori le immagini Più di una, ma leggermente diversa Anche questa rappresenta Maria Goretti, ma questi sono stati fatti i francobolli il giorno della santificazione Poi sotto Ville Roche sono dei santini con la casa e tutto Questo era un comodo telaio, dove si faceva Era della famiglia Goretti e di altre famiglie qui attorno I Goretti, non avendo la possibilità per trasportarlo fino a Nettuno, l'hanno lasciato qui Poi siccome ci ha lavorato molto la mamma di Maria Goretti, l'hanno nominato qui da tutti Ma la cosa particolare di questa stanza è questa carrozzina Questa carrozzina è la carrozzina della mamma, quella è la mamma Oltre che la carrozzina è della mamma, la mamma di Maria Goretti Proprio seduta su questa carrozzina assistito alla santificazione della figlia Il 24 giugno 50 in terzo San Pietro Parlevano delle foto di Maria Goretti, non c'era nessuna originale, lei non aveva nessuna foto Sono state fatte grazie a un noto pittore dell'epoca su indicazione della mamma Che si è scritta qua qui sotto, Vincenzo Aprovelli E ne fece parecchie, ma la mamma ne scesse due o tre Ma qui c'è una particolarità Che l'originale di questa foto è stata messa nell'altare Nella chiesina dove Maria Goretti è morta All'ospedale Orsonico di De Pura E poi gli hanno voluto fare un gran regalo a Maria Gli hanno fatto una cornigia tutta attorno a questo quadro che sarà 60x80 sicuro Di oltre 20 centimetri, tutti i dassellini di corteccia Di un albero preso alle feriere dove Maria Goretti giocava con i fratellini E' una storia che appassiona a tantissima gente Perché una bambina ha avuto coraggio Ha avuto coraggio di perdonare il suo aggressore Poco prima di morire La mamma lo perdona finito il processo Finito il processo il giudice chiede alla mamma Dice lei sarebbe in grado di fare come la sua figlia Di perdonare certo che lo perdonerò Allora in sala viene un grande mormorio Perché giustamente perdonare E mamma assunta a tacere a tutti con delle semplice parole E se il nostro signore non ci perdonasse delle nostre maffatte Che fine faremo tutti E il serenelli è venuto a sapere dopo 7-8 anni che era in cancro Che Maria l'ha perdonato poco prima di morire Che la mamma l'ha perdonata al processo Poco 7-8 anni e tenta di suicidarsi in carcere Ma quella notte prima del suicidio le appare Maria Goretti Dicendole che con questo gesto non risolvi nulla Presto uscirei di cancro e trovati un luogo di preghiera Lui poi ha passato tutta la sua vita in due conventi Prima ad Ascoli Piceno e poi a Macerata E c'è un'altra particolarità molto grande Che il papà di Maria Goretti come pian già detto è morto A 42 anni per Valaria il 6 maggio 1900 L'Uccisore di Maria muore esattamente dopo 70 anni Anche lui nel commercio del 6 maggio E questi due 6 maggio a distanza di 70 anni La morte del papà e la morte dell'Uccisore Sono tutti e due di domenica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti